Pagare o non pagare? Questo è il dilemma di Walter Fiti. Bella forza, direte voi. La risposta è scontata. E invece no, è scontata oggi, che al E io pago di Totò è stata data una sfumatura reteriore del sessacchiotto che ancora paga. Nel passato, invece, aprire il portafoglio pieno di banconote fruscianti, cacciarne 3 o 4 aperte, era il simbolo della persona realizzata che poteva chiedere per sé il meglio. Da allora, ci diceva Walter Fiti, molto è cambiato perché il lavoro che prima nobilitava l'uomo adesso viene considerato quasi un... o una corvée per chi non vorrebbe farlo o al contrario quasi una raccomandazione rispetto ai tanti che ne sono privi e quindi, soprattutto fra i giovani, sta passando l'idea che è bene che tutto sia gratis. Ma è davvero gratis? Quello che viene dato free, si chiede Walter Fiti. Perché non consideriamo i costi sociali di certe scelte? Per esempio, tutti entusiasti perché il salmone affumicato adesso costa meno, perché dalla Norvegia si è trovata una zona del Cile piena di fiordi e di temperature possibili in cui il salmone possa crescere con costi diversi. Ma quel salmone, o almeno l'industria legata al salmone, rilascia delle scorie che alla lunga alla popolazione saranno male. Stesso discorso anche per le ditte italiane che sono andate di corsa nelle popoli emergenti per pagare meno il lavoro. Si sono trovati con queste stesse popolazioni che hanno rubato il know-out e adesso intervengono con dei prezzi killer nel mercato portando al fallimento quegli stessi che avevano voluto risparmiare e avere gratis qualcosa. E questi prezzi killer di adesso al supermercato, quante altre cose staranno ammazzando? Si chiede Walter Fiti. E ancora, ci siamo accorti che molte cose non sono free, ma freemium le definisce lui. Cioè la base è free, per esempio possiamo scaricare praticamente impuniti la musica, però poi quella musica diventa il trampolino di lancio per comprare tutte le sponsorizzazioni legate al cantante che di volta in volta si sta muovendo. E quindi ne vale la pena, riflettiamo. Questo è un libello prezioso che consiglio a tutti perché si ha l'opportunità più unica che rara di leggere quelle cose che l'intelligenza ficcante e lo stile perfetto di Walter Fiti rendono indimenticabili e ti cambiano la concezione che hai tu stesso nel pagamento. senza dover arrossire pagina dopo pagina per quelle tematiche solitamente sconce che sempre, secondo me, infangano un po' i libri di Walter Fiti. Gli altri.